I fondi stanziati dal Parlamento europeo per i gruppi politici quest'anno sono stati erogati in rate semestrali anziché annuali. Le elezioni di giugno hanno rimescolato le carte in tavola, alcuni gruppi hanno guadagnato seggi nell'emiciclo e altri, come i Verdi e Regno Europe, li hanno persi. La maggior parte dei fondi viene distribuita in proporzione al numero di deputati del gruppo. Questo semestre il Parlamento europeo ha versato 31 milioni di euro agli otto gruppi politici e ai deputati non iscritti. Il Partito Popolare europeo ha ricevuto più di 8 milioni di euro, i socialdemocratici quasi 6 milioni e i Patrioti per l'Europa 3,7 milioni. In fondo alla scala il Gruppo Europa delle Nazioni Sovrane, che conta solo 25 euro deputati e ha ricevuto 1,17 milioni di euro. Il Parlamento europeo ha allocato circa 65 milioni di euro per l'anno per la supporto dei gruppi politici. La maggior parte del gruppo è distribuita in proporzione, quindi 97.5%. 2.5% è distribuita in equal shares, ma il gruppo è distribuita in proporzione al numero di membri del Parlamento europeo che il gruppo politici ha. Quindi i gruppi maggiori get more funding, smaller groups get less funding. Il bilancio del Parlamento europeo è l'unica fonte di finanziamento per i gruppi politici e gli eurodeputati non iscritti. Questi fondi vengono utilizzati per coprire le spese amministrative e operative. Al contrario non possono essere utilizzati per sostenere i partiti politici nazionali o per finanziare campagne elettorali. In passato il Parlamento ha avviato procedimenti per recuperare questi fondi quando ha ritenuto che fossero stati utilizzati in modo improprio. In Denmark il Partito nazionale ha usato questo gruppo di fondi per supportare le campagne Facebook nel passato alla elezione nazionale nazionale nazionale. Ci sono anche i casi simili in Francia, per esempio, con il Front National, quindi è un po' tempo fa, dove il gruppo di fondi era anche misurato per il purpose del Partito nazionale e dei candidati nazionale. Altri fondi del Parlamento europeo vengono versati ai deputati per assumere i loro assistenti. Il nostro corso di fondi del Parlamento europeo vengono